Partita sospesa per attacco terroristico tra Belgio e Svezia, scopriamo insieme che cosa sta succedendo in questi ultimissimi minuti. Partita tra Belgio e Svezia, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, è stata definitivamente sospesa, i calciatori non torneranno più in campo. Intorno alle 19 infatti un attentatore ha aperto il fuoco tra la folla, facendo tra le vittime due tifosi svedesi. I calciatori della Svezia, presa la notizia, hanno deciso di non entrare più in campo. Al momento a tutti i tifosi è stato fatto di vieto di uscire dallo stadio, infatti l'attentatore è armato ed è ancora in fuga. La preoccupazione è tanta ma al momento non ci dovrebbero essere altre vittime, ma il livello di tensione a Bruxelles è ancora molto alto.